Buonasera e benvenuto in questo nuovo video ASMR. È il tuo primo giorno di scuola? Sta iniziando la scuola? E probabilmente hai un po' di ansia? Hai un po' di preoccupazione? Chissà come sarà quest'anno? Sarà difficile? Verrò buggiato? Non ti preoccupare, andrà bene, andrà molto bene, ti rassicuro io. Come vedete, alle mie spalle c'è un fantastico temporale. Un temporale, eccola qui, che ti inconglierà il sonno e sarà di buon auspicio per l'inizio della scuola. Tutto, 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 tutto. Tutto, 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 tutto. Incominciamo con un po' di speed painting su questa baghetta luminosa, primo trigger del video. Tranquillo, ti rassicuro io, buon inizio di scuola, buon primo giorno di scuola. Buon primo giorno di scuola. Se hai paura di storia e filosofia, non ti preoccupare, sarà facile. Come per Harry Potter fare una magia. Buon giorno di scuola. Buon giorno di scuola. Se ti spaventa matematica e fisica. Buon giorno di scuola. Non aver paura. Io ero... sono quasi stato bucciato in musica. Non c'è la rima, ragazzi. Vabbè, poche volte. Ben bene. Sentite questo sottofondo melodioso. La pioggia che cade, cade incessantemente. e i tuoni che mi accompagnano, accompagnano la mia voce. Busca sin previously i vostri, dai cic Bonjour diUno 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 roma in cura. Non ti preoccupare Andrà come deve andare Non avere paura del fallimento Devi lavorare duro per commettere il tuo prossimo errore Non avere paura di sbagliare L'importante è fare, fare, fare Non ti preoccupare Non ti preoccupare E non ti preoccupare Adesso, visto che comunque questo video è dedicato a chi sta iniziando il nuovo anno scolastico, preleverò i vostri pensieri negativi e li trasformerò in pensieri positivi. Brr, 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 br Prelevo i pensieri negativi Diventano positivi Un po' di scratching sul microfono Per togliere le ansie Immensamente relax Cazzo che sto là Cazzo che cazzo che cazzo 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 Lingardium Leviuso Lingardium Leviuso No, 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 no. No, no, no. Buon inizio della scuola. Che questo sia un anno fantastico. Che questo sia un anno fantastico. Cazzo, il temporale è diventato veramente forte. Spero che questo video vi abbia rilassato, caricato per il nuovo anno scolastico. Noi ci vediamo in un prossimo video, qui sul K-A-N-A-N-A-N-A. Grazie. Grazie.